E' un piacere avere alla decima edizione del premio Amara Femmina Ciro Petrone Un piacere per me, buonasera Ti piace questo premio, è il tuo primo premio? Sì, 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 sono onorato chi mi ha invitato e chi mi ha premiato Veramente portate in alto quello che è la napolitanità, mi distingue e questa è una bella cosa Io ti ringrazio Lo vedi questo personaggio qui dietro di noi? L'intruso, l'intruso! Allora, lui è praticamente Mood, un omaggio o un paio di occhiali Vediamo come stai, dai, facciamo bene il marketing Moodis Moodis Uule Come va? Mamma mia, guarda se non fossi sposata ti chiederei il numero di telefono Senti, allora, un saluto agli amici di contatto, facciamo un po' di contatto Facciamo contatto e salutiamo a tutti i nostri amici di contatto Moodis, vado accanto a Tumansiel perché sono bello È il premio di una femmina, giustamente, aspettiamo la motivazione Ti aspetta, ma voglio sapere una cosa, nella tua vita c'è una mala femmina? C'è stata, c'è? No, no No, no Sì tu malò Non ancora, sì, bravo Gianluca Di Gennaro, il tuo primo premio, come ti è sembrato a quella Tumansiela? Il mio primo, ma stasera? No, il premio ovviamente, è il primo di una lunghe serie perché verrai sempre, mi auguro Ah, come? Sei il mio attore preferito ormai Me lo auguro anche io, ti ringrazio, me lo auguro anche io, è una bellissima serata Senti, poi Liliana De Curtis fa un certo effetto, vero? Un'emozione unica, poi conosceva mio nonno, Nunzio Gallo Tu sei l'intruso che porti gli occhiali Ho portato questo regalo, un omaggio a Gianluca E grazie per avermi ospitato, spero che ti piacciono E vediamo, vediamo come gli stanno Dossiamoli, dai, vediamo se ti stanno bene Ah, vedi? Ok Contatto, dai Dai, contatto Ci resposito anche tu al premio Mala Femmina Eh sì, anche io, poi ho conosciuto Liliana De Curtis, ragazzi, un'emozione enorme per un attore Senti, ma nella tua vita c'è stata una Mala Femmina? Eh, più di una, più di una Infatti questo premio, ecco, questo premio lo dedichiamo a tutte le male femmine che ho conosciuto Perché nun Gianna Stavonom, onesto con mamme Ti ringrazio di avermi invitato, ho portato questo per il mio grande amico ci resposto Grazie, grazie mille Spero che ti piacciono Vediamo un po' che cos'è Ah, 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 ah Con tanto onore lo presento A voi a casa che ci state guardando Gianluca Capozzi Gianluca Capozzi, proprio a voi e sonnue Ciao, come stai? Benissimo, benissimo, bella serata Lunga ma bella serata Insomma, il premio Mala Femmina è sempre il premio Mala Femmina, quindi va onorato Io, con piacere, sono rimasto qui e per Barbara e perché comunque è bello esserci a prescindere Gianluca, voglio farti innanzitutto i complimentissimi per la tua performance E poi voglio chiederti cosa farai per l'estate, dove sarai, vogliamo seguirti, le tue fans che sono tante Siamo già partiti col tour estivo, quindi già stiamo cantando sotto le stelle Quindi basterà venire sulla mia fanpage, Gianluca Pozzi fanpage e fare attenzione a quelle non ufficiali E troverete lì tutte le informazioni per venire dove siamo Che bello, potete seguirlo, amiche di contatto Grazie mille Gianluca, io ti lascio, ci facciamo il nostro saluto Ciao contatto e ciao Nick Ciao Io lo stavo cercando, poi all'improvviso l'ho visto arrivare da lontano con questo bocciuolo Eccolo qua, per rappresentare la tua bellezza, un fiore, naturalmente che è un omaggio gradito per te Ma guardami, mi lusinghi troppo Guarda, non so dove metterlo però, c'è un po' di spazio ma non so dove metterlo Allora, come stai? Tutto bene? Bene, e tu? Bene, bene, ormai sarà finita, finalmente abbiamo ritirato questo premio anche quest'anno per l'ennesima volta Devo dire sempre con piacere Oh, ma sei fantastico Sì Veramente a Toto non si dice di no Amici di contatto, dobbiamo spiegarlo, lui arriva dal Messico Sì, subito di corso a Napoli per ritirare questo premio, insomma È unico Vai la pena, vai la pena E quindi devo dire che sono contento di essere qua a Villa D'Angelo Per tirare questo premio con gli amici di contatto che sono sempre nel mio cuore Quindi mi raccomando seguitemi su Facebook, su Twitter, su Instagram, dappertutto Cercate Deci Belbellini e diventiamo amici Online Anche io e te siamo amici Assolutamente sì, ti seguo, tu mi segui, ci seguiamo Un bacio e premio Pala Femmina naturalmente anche quest'anno Presenti Un bacio e premio Pala Femmina naturalmente anche quest'anno Un bacio e premio Pala Femmina naturalmente anche quest'anno Kan signaling perché comeНу Io edo Amici di contatto a Malincuore lasciamo Villa D'Angelo che ha ospitato la decima edizione del premio Malafemma Germana, che dire, ci lasciamo purtroppo Sì, purtroppo sì, è stata una serata bellissima, tanta bella gente, importante soprattutto Siamo usciti vincitori anche stasera perché guardate che premio che abbiamo ricevuto Fantastico, che dire, ce ne andiamo a mani piene Mani piene, sempre, mai malivose, mai Amici di contatto, prima di lasciarvi però vogliamo ricordarvi dove potete continuare a seguire i nostri servizi Sul nostro sito www.contattotelevision.it o aggiungeteci le nostre pagine Facebook o Contatto Television Napoli 3 o 4 Ancora sui nostri canali del digitale terrestre 603 e 693 Da Anna e da Germana è veramente tutto Noi vi lasciamo e vi ricordiamo di restare sempre in contatto